L'usignolo di Bustock, John Bytes, la voce più autorevole per i diritti civili, sarà il 16 luglio nella città leopardiana per l'edizione 2016 di Lunaria, evento organizzato dall'Associazione Musicoltura. Il grande colpo realizzato dal direttore artistico di l'usicoltura Piero Cesanelli è stato presentato ad Ancona nel corso di una conferenza stampa presso la sede della Regione Marca. Sì, questo grande appuntamento che abbiamo appunto annunciato ben sei o sette mesi prima perché non era mai capitato che una star mondiale a questo livello venisse a trovarci sul palco di Lunaria Recanati in Piazza Leopardi. Dopo aver avuto in tutti questi anni i maggiori rappresentanti, i più autorevoli rappresentanti della canzone d'autore italiana e dopo la presenza di Salomon Burke abbiamo il piacere di annunciare che il 16 luglio avremo John Bytes con tutto quello che comporta John Bytes, con tutte le sue lotte per i diritti civili, con tutti gli album registrati, con le collaborazioni storiche che vanno da Bob Dylan ai Beatles. Insomma, sarà un evento veramente mondiale. Per Musicoltura si tratta di un grande riconoscimento per il lavoro che l'Associazione ha fatto in questi anni. Sì, è un riconoscimento anche per il lavoro effettuato in questi anni da parte di Musicoltura che organizza appunto Lunaria artisticamente e che è in piedi ormai da più di vent'anni con questa manifestazione che tende appunto a focalizzare, a mettere in risalto quella parte di musica che dà anche un aspetto fondamentale anche alla parola. E infatti in questo tipo di concerto troveremo una John Bytes che colloquerà anche con il pubblico nella nostra lingua tra l'altro. John Bytes è la voce più autorevole per i diritti civili. Sì, lei è stata sempre sulle barricade per la lotta appunto dei diritti civili e di tutti i sopprusi che vengono effettuati a discapito appunto di alcune fasce di umanità. Di conseguenza sarà presente con il vecchio repertorio che tutti conosciamo, il repertorio pacifista, quello cantato anche nelle marce da Martin Luther King e da tutti gli altri insomma, fino alle ultime collaborazioni e alle ultime registrazioni in cui appare anche e sarà sul palco di Recanati la presenza del figlio che è un ottimo, eccellente percussionista oltre a altri musicisti che l'accompagneranno. La presenza dell'artista nella città leopardiana, occasione per il rilancio di Recanati a Capitale della Cultura nel 2018. Sì, mi sembra un'ottima cosa, ho partecipato l'anno scorso alla manifestazione di grande impatto, di grande suggestione, testimonia non solo la manifestazione in sé ma il rapporto con una città che ha fatto della cultura la sua identità. Credo che sia un'ottima candidatura che sosterremo, chiederemo come è stato fatto anche in altre occasioni, che ci sia da parte un po' di tutte le istituzioni questa sottolineatura, chi ha la possibilità di partecipare potrà respirare quell'atmosfera che, ripeto, trasmette in maniera immediata il valore di una città che proprio attraverso la cultura, attraverso i grandi personaggi, attraverso la capacità di riproporla con temi che riguardano l'oggi e come il tema dei diritti civili, può ben rappresentare un modo forte che unisce tradizione e futuro nella chiave della cultura che poi è la caratteristica di tante città marchigiane ma del nostro paese, quindi una grande spinta in termini di identità a fare di tutto per che questa candidatura possa diventare poi, diciamo, incrociando le dita, anche qualcosa di più. Francesco Fiordomo, sindaco di Re Canati, ecco il 16 luglio un grande appuntamento che viene in un momento particolare e Re Canati rilancia la sua candidatura a Capitale della Cultura. Sicuramente sì, un grande appuntamento grazie all'intuito di musicultura, è un percorso che abbiamo compiuto in questi anni è un appuntamento che viene in un momento particolare, noi lanciamo la nostra candidatura come Capitale della Cultura Italiana 2018 quindi è un'iniziativa di respiro internazionale che penso ci darà ancora di più la spinta per diventare città di cultura città di turismo, città che promuove eventi del genere. Ecco, candidatura legata ad una sottolineatura, quella dei diritti civili che l'artista rappresenta. Sicuramente quando parliamo di cultura parliamo di educazione, parliamo di un percorso di crescita individuale e collettiva quindi è una personalità del mondo della musica ma che ha un valore simbolico straordinario e quindi veicola quei messaggi che poi sono alla base di una convivenza civile che sia improntata al rispetto e un sentimento positivo nei confronti degli altri. L'appuntamento è per il 16 luglio ma la macchina organizzativa si è già messa in moto. Sicuramente sì, adesso la stiamo mettendo a punto anche per i biglietti, abbiamo già telefonate e mail che arrivano da ogni parte d'Italia e pensiamo che sarà un grande evento e sarà un'ulteriore spinta, come dicevo prima, in questo percorso che ci vedrà insieme alla Regione, insieme a tutti i territori impegnati nei prossimi mesi per promuovere questa candidatura.